Chi ha meno di 30 anni, non studia e non lavora ed è iscritto al programma Garanzia Giovani può usufruire dell'accompagnamento al lavoro, dedicato a chi sta cercando un'occupazione, ha bisogno di supporto per un progetto professionale o vuole aiuto per affrontare il primo impiego. Il servizio viene offerto da operatori qualificati dei centri per l'impiego o di altri enti autorizzati o accreditati ai servizi al lavoro regionali. Può essere attivato durante l'orientamento e funziona grazie a una rete territoriale pubblica e privata. L'operatore individua le opportunità di lavoro più adatte a ciascun profilo, effettua un incrocio tra domanda e offerta e seleziona l'azienda più idonea. In seguito assiste il giovane nella fase di preselezione, per esempio nel momento del colloquio e nel primo inserimento. Infine partecipa nel definire il progetto formativo e il tipo di contratto più funzionale. L'accompagnamento dura sei mesi ma si può interrompere e poi riprendere fino a completarlo se si segue un corso di formazione o se si ottiene un contratto di lavoro della durata inferiore ai sei mesi.